... ... ... ... ... ... ... ... vettura semella praticamente c'è Alessandro Montazzi con Ilaria Magnani e anche per loro che faccio strada così intanto consegniamo l'articolo potabile, siamo qua, prima gara sulla terra, una cosa che mi sembra bella, adesso mi ha fatto dei tempi, la seccavano, siamo tutto bene, dai, speriamo di trovarsi qua a festeggiare a fine gara, come no, io sono qua apposta che ci sto a pagare, ciao domani! Ciao! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info